Da inizio anno sono state 15 le truffe ai danni di anziani denunciate alla Polizia di Stato in tutta la provincia dell'Aquila, un'escalation pericolosa che spinge la Questura a rafforzare gli strumenti di prevenzione. E così la Questura, diretta dal dottore Enrico De Simone, è sempre più nel territorio a disposizione della gente ed ha già iniziato una serie di incontri nei circoli anziani del territorio, con una presenza anche nelle chiese per distribuire Vademecum e informare gli anziani che sono una fascia debole e quindi facile preda di malintenzionati. Chi porta avanti da tempo questo discorso è il capo della squadra mobile dell'Aquila, il dottor Danilo Di Laura, che di recente ha parlato di rischi e di come prevenire questi episodi al circolo aquilano. I numeri sono alti rispetto alla proporzione che c'è qui all'Aquila, sono quasi un al giorno, anche come tentate nelle ultime settimane. Per questo ci teniamo a fare questa informazione anche per sollecitare tutta la popolazione, soprattutto gli anziani, a stare più attenti con alcuni consigli che noi eviteremo. L'ultima truffa risale allo scorso venerdì, quando un'anziana signora che abita in via Pescara, vicino alla Questura, è stata truffata da un malvivente che prima si è fatto consegnare soldi e gioielli e poi ha tentato senza riuscirci il riscatto dei preziosi, cioè voleva farsi dare altri soldi in cambio dell'oro, dando addirittura appuntamento alla malcapitata di fronte a un bancomat cittadino. Altre volte i malviventi si presentano a casa facendo finta di essere delle forze dell'ordine e chiedendo soldi. Si tratta di gruppi organizzati, sono professionisti, secondo il capo della Mobile, che arrivano prevalentemente dalla campagna con un'organizzazione minuziosa. Non è facile scovarli, anche perché spesso la percentuale di sommerso è alta. Il questore ha anche deciso di rafforzare i controlli nelle zone che sono considerate a maggiore rischio. È sicuramente un gruppo organizzato e potremmo dire seriale, specializzato nelle truffe, che viene all'Aquila costantemente, appunto quasi tutti i giorni. È difficile risalire a loro perché utilizzano appunto vetture intestate da altre persone, così come i telefoni dai quali chiamano. Però grazie sempre al contributo, alle testimonianze anche degli anziani, dei truffati o dei testimoni che passano magari in quelle situazioni vicino, le abitazioni degli anziani truffati, potremmo sicuramente avere elementi fondamentali per poi individuare finalmente questi soggetti. Indagini che sono in corso e stiamo appunto lavorando per poter poi giungere ad un'effettiva individuazione di questi autori. A volte, se non convinto magari dai parenti, figli, nipoti, rinuncia anche alla denuncia. Io invece voglio sollecitare queste persone a denunciare sempre e soprattutto a non sentirsi mai umiliati. Non è vergogna appunto soffrire per queste cose, si deve vergognare chi fa soffrire le persone che sono in una condizione più debole rispetto agli altri.